Leonardo Calistri è il direttore sportivo del Prato, siamo un po' a fare il punto della situazione. Intanto ci dai le ultime perché la partita con la Gianna Herminia è stata sospesa al 32esimo del primo tempo per infortunio al direttore di gara. Cos'è successo? Il direttore di gara ha avuto un infortunio già dal riscaldamento, ha avuto un problemino al polpaccio quindi ha provato a arbitrare la partita ma al 32esimo mi sembra ha interrotto e quindi ha terminato qui la partita e ora vedremo un po' quando sarà possibile rigiocare, siamo in attesa di comunicazioni e la partita dovrà riprendere dal 32esimo del primo tempo. Un Prato che aveva approcciato bene la gara contro la Gianna Herminia, insomma mi è sembrato che nella prima parte del match per quello che si è potuto vedere chiaramente comunque ci fosse una buona risposta della squadra. La squadra aveva dal mio punto di vista approcciato bene, detto bene, eravamo concentrati e diciamo l'interruzione è arrivata un pochino troppo presto per fare un bilancio su questa partita però diciamo che le reazioni soprattutto da un punto di vista emotivo, da un punto di vista di atteggiamento sono state quelle che ci aspettavamo. E' una squadra che ha una voglia amata di risalire in classifica, è una squadra che sicuramente ha tutto per mettersi alle spalle le ultime due sconfitte consecutive. Sì, la realtà è questa, diciamo la partita di oggi ci vedeva di fronte a una squadra prima in classifica che come noi viene da dei risultati non positivi e quindi come avete visto anche loro erano un po' in difficoltà. La partita di oggi era una partita importante per tutte e due le squadre, per noi per certi versi perché avevamo una grande voglia di tornare in campo subito e purtroppo è successo quello che è successo e quindi come ho detto siamo pronti a andare avanti anche con questa difficoltà, poi vedremo quando la recupereremo sarà probabilmente un'altra partita e quindi ci dovremo calare in questa realtà e vedremo un po' come approcciarla. Ora purtroppo è andata in questo modo e quindi dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita. Prima di lasciarti alle domande dei colleghi presenti qua in sala stampa vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, l'infortunio di Diego Mobilio, quello di Trovale, due giocatori che quindi potranno essere sicuramente recuperati e concedere i giocatori così alla Gianna non era proprio una cosa semplice. No, questa era diciamo una difficoltà ulteriore della partita di oggi perché comunque parliamoci chiaro oggi insomma in queste partite giocare senza Andrea per noi da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista di importanza del giocatore è una perdita importante, però il ragazzo si è fatto male con il Forlì quindi non sono passati neanche, sono passati 20 giorni mi sembra, quindi i tempi sono quelli per un infortunio come questo. Siamo stati sfortunati perché per l'appunto diciamo questo periodo è diciamo un periodo pieno di partite dove abbiamo giocato mercoledì, domenica, mercoledì, domenica e quindi Andrea con un infortunio diciamo di 20 giorni ha saltato 5 partite per noi importanti. però il ragazzo ha provato e si era diciamo rimesso a disposizione per il derby o la Pistoiese ha ripreso un altro piccolo colpo sul ginocchio quindi oggi non è a disposizione ma è un infortunio che diciamo può smaltire in una settimana, una decina di giorni. Poi è sempre difficile parlare di tempistiche certe però stiamo ottimisti che il ragazzo sia sulla via diciamo del ritorno e per noi è un recupero importante come quello di Giordano oggi aveva un piccolo problema, abbiamo deciso di non rischiarlo per non compromettere diciamo per non creare diciamo un problema maggiore. Oggi Giordano aveva appunto un problemino e abbiamo deciso di non rischiarlo perché diamo fiducia e abbiamo fiducia anche in tutti tutti gli altri ragazzi oggi erano in campo e quindi stavano facendo una partita gagliarda e quindi abbiamo bisogno di tutti. Le domande dei colleghi presenti qua in sala stampa comincerei da Roberto Nardi, Prato Reis, la sua domanda al direttore sportivo del Prato Leonardo Calistri. Allora passo un po' all'aspetto dei tifosi che sono un po' delusi dopo le ultime due sconfitte con il Salso Maggiore e la Pistoiese e oggi c'è stata diciamo una prima forma di contestazione hanno disertato il primo tempo e poi dopo non è terminato. Ecco cosa si sente di dire alla società ai tifosi? Allora mi sento di dire che la protesta sicuramente è una è una diciamo una forma che il tifoso è libero di esprimere. Devo dire però che lo striscione parla diciamo di programmazione. Parla di programmazione e in questi termini dobbiamo essere tutti uniti. Dobbiamo essere tutti uniti e quando parlo di unità intendo tutte le componenti che girano intorno al Prato, tutte le componenti che vogliano bene a questa società perché è vero che abbiamo fatto due due sconfitte ma vorrei ricordare che prima della partita con il Salso Maggiore il Prato veniva da una serie di risultati importanti, una serie di prestazioni importanti quindi dobbiamo dire che i primi a non essere contenti degli ultimi risultati siamo noi. Il Presidente, se c'è una persona che deve essere arrabbiata in questo momento è il Presidente prima di tutto, come lo sono io, come lo è l'allenatore ma noi abbiamo tutti grande fiducia nel mister, grande fiducia nell'allenatore, cioè nell'allenatore come ho detto, grande fiducia in tutti i ragazzi, grande fiducia in questa società e io lo posso dire perché la vivo tutti i giorni e vi dico che questa è una società sana, una società che programma, è una società che ci mette tutto, quindi ripeto dobbiamo essere uniti e per unità tutti, da giocatori, la società, il magazziniere e anche i tifosi, tifosi devo dire che in questi mesi, in questi anni sono stati la componente e non è mai mancata e quindi noi gli ringraziamo. Però, ripeto, soprattutto dato che parliamo di programmazione dobbiamo essere tutti, ripeto, tutti uniti perché per fare qualcosa di importante, per fare qualcosa di importante in questa categoria dove nessuno ti regala niente, dove è difficile tutto, non ci regaleranno niente, quindi se non siamo uniti tutti, non andremo da nessuna parte, quindi questo è il messaggio che deve passare, la società c'è, sento dire la società, manca la società, la società c'è, siamo qui tutti i giorni, tutti i giorni, quindi come abbiamo cercato di fare le cose per bene e le cose serie quest'anno, non è che noi ci teniamo indietro, noi rilanciamo, non è che noi siamo qui a giocare i campionati, però è difficile e questo va detto, quando sento dire si vince il campionato, bisogna vincere il campionato, vincere il campionato è una frase che non esiste, è una frase che trova il tempo che trova, noi dobbiamo andare in campo e tutte le partite dimostrare di vincere le partite, per fare questo ci vuole, come hanno detto i tifosi e su questo sono d'accordo, grande programmazione, ma per fare una programmazione ci vuole il tempo giusto, noi ce lo stiamo mettendo e quindi richiedo un'altra volta come ho detto una grande unità da parte di tutti, perché senza quella non si va da nessuna parte, senza quella si perde tempo, quindi ribadisco un'altra volta il concetto, la società c'è, l'allenatore c'è, i giocatori sono con noi e si sta creando qualcosa all'interno dello spogliatoio, con l'allenatore, con la società, quindi io vi dico, ci vuole entusiasmo, ci vuole fiducia, se no senza entusiasmo, senza fiducia e senza unità non si va da nessuna parte.